Ci sono determinati verbi in inglese che quando sono seguiti da un altro verbo, quel altro verbo non è all'infinito ma deve prendere la forma con "-ing". E adesso vorrei guardare un attimo i verbi principali che seguono questa costruzione. Per esempio, mi fa piacere o mi diverte, posso dire I enjoy, enjoy, E-N-J-O-Y, quindi I enjoy. E se io voglio seguire con un altro verbo, che ne so, mi fa piacere farlo, allora l'altro verbo sarebbe do, quindi I enjoy. A questo punto non posso dire to do, ma devo dire doing, ok? Quindi I enjoy doing it, I enjoy doing it. Quindi enjoy vuol dire divertire o far piacere, quindi come diresti mi fa piacere farlo, quindi I enjoy, E poi devo seguire con do alla forma "-ing", ok? I enjoy doing it, I enjoy doing it, questo mi fa piacere farlo. Invece non, non mi diverte, non mi diverte farlo, come diresti quello? Non mi diverte farlo. Quindi non mi diverte farlo, mettiamo enjoy alla forma negativa, quindi I don't enjoy doing it. Non mi diverte farlo. I don't enjoy doing it. Un altro verbo che segue questa regola è il verbo per finire. Allora, finire si dice to finish, to finish, alla forma infinita, to finish, con to. Anche qui il verbo che segue finish deve essere con la forma "-ing". Quindi, come diresti, ha finito, ha finito di lavorare, ha finito di lavorare. E quindi, ha finito di lavorare e quindi sta andando a casa, quindi ti sto dicendo qualcosa al presente, quindi ha finito di lavorare. Un verbo simile, cioè a finire, è cessare, cessare, cessare di fare qualcosa, cessare, cessare, e questo si dice in inglese, credo che lo sappiate, to stop, to stop. Quindi, ha cessato, ha cessato di funzionare, come diresti, ha cessato di funzionare. Cioè, non funziona più, di funzionare, e quindi non funziona più adesso. It has stopped, ha cessato, stopped working. Ok? Nota bene qua che sto mettendo il participio passato del verbo, dopo have. Quindi, has finished e has stopped. Quindi, un altro verbo che segue questa regola è iniziare. Ok? Iniziare. Iniziare si dice in inglese to start, to start. E c'è anche continuare, continuare. Anche quello segue la regola di mettere ing se c'è un altro verbo. Quindi, to continue e continuare. To continue. Quindi, come diresti, a che ora avete iniziato a lavorare stamattina? Iniziato a lavorare stamattina. E proviamo, mettiamolo al passato questo, no? Questo, mettiamolo al post-simple. E proviamo, anche questo al passato, semplice, post-simple. Mettiamo, hanno, hanno continuato, hanno continuato a lavorare. Come diresti, quello, hanno continuato a lavorare. Quindi, a che ora avete iniziato a lavorare stamattina? At what time? At what time? Mettiamolo al passato. Potrebbe essere al present perfect? Dipende cosa vuoi dire. Quindi, at what time did you start? Poi, andate a vedere le lezioni intitolate il present perfect del toscano e vedrete una spiegazione del present perfect. Comunque, at what time did you start working this morning? At what time did you start working this morning? E poi, hanno continuato a lavorare. Quindi qua, they, they continued working. Ok? Dobbiamo mettere questo ing sul verbo che segue questi verbi qua. Cioè, start, continued, finished, stopped. Richiedono questo ing dopo il verbo. Vediamone un altro. Allora, prendiamo il verbo to keep. Che vuol dire sia tenere, tenere oppure custodire, tenere o custodire. Ok? Quindi, per dire, per esempio, puoi tenerlo se vuoi. Cioè, puoi tenerlo se vuoi. Se vuoi, te lo do, puoi tenerlo se vuoi. Um, you can keep it. Ok? You can keep it. Se vuoi. If you want. E, difatti, Barack Obama diceva sempre, you can keep your doctor if you like him or her. Ok? Quindi, you can keep it if you want, puoi tenerlo se vuoi. Oppure, insomma, tengo, tengo le mie, tengo le mie chiavi, tengo le mie chiavi nella mia tasca. Ok? Per dire questo, quindi, I keep, I keep my keys in my pocket. Ok? Però keep, keep, ha un altro significato. Ed è continuare, però nel senso di continuare di fare qualcosa senza smettere. Cioè, ripetere, sempre ripetere qualcosa. E qua abbiamo, quindi, la forma keep più ing. E, vuol dire, keep più ing, vuol dire, magari qualcuno ti dà noia perché mettono sempre la musica troppo alto. He keeps playing music. No? Cioè, continua a mettere la musica troppo alta. No? Vuol dire un'azione ripetuta, se vogliamo, nel presente. Ok? Quindi, continuare di fare qualcosa senza smettere. Non smettere, non smette di fare questa cosa. E usiamo la forma keep più ing. Quindi, come diresti, continuate, continuate a farlo. Continuate a farlo, usando questa forma qua con keep. E proviamo, non smette, non smette di parlare. Ma, in questo caso, non metterlo, non metterlo al negativo, non usare non smette, ma mettilo all'affermativo usando la forma con keep. No? Cioè, cerca di dire, continua a parlare, no? In quel senso lì. Cioè, proviamo, non smette, non smette di ridere. Non smette, è sempre lì, è sempre lì che ride. Non smette di ridere. Come diresti, quello, usando questa forma keep più ing. Allora, quindi, continuate a farlo. Quindi, keep, keep, doing it. E nota bene, abbiamo questo ing, quindi keep doing it. Non smette di parlare. Mettiamolo all'affermativo. Quindi, he keeps talking. He keeps talking. Non smette di ridere. He keeps laughing. Ok? He keeps laughing. Questa è una F, ok? Pronunciato F, la G-H, viene pronunciato come una F in inglese. Ok? Quindi, vediamone un altro. Evitare. Evitare, in inglese, si dice to avoid. E quindi, qua richiede anche ing, questa costruzione con ing. E come diresti, quindi, ho evitato, ho evitato di vederlo. Ho evitato di vederlo. Come diresti, quello in inglese. Ho evitato di vederlo. Ok? Quindi, ho evitato di vederlo. I avoided, I avoided, di vederlo, seeing him. Come si dice, in inglese, considerare. Come diresti, quello. Considerare. Ok? E come si dice, mi piace. Mi piace. Come diresti, quello. Allora, considerare, si dice in inglese, to consider. E mi piace, si dice, I like it. I like it. Ok? Mi piace. I like it. Quindi, ho considerato di farlo. Cioè, ci ho pensato. Ho considerato di farlo. Ci ho pensato. Considerato. Di farlo. Questo vuol dire ci ho pensato. Ok? E quindi, I considered, I considered doing it. I considered doing it. Ok? Quindi, mi piace farlo. Mi piace farlo. Quindi, resti, mi piace farlo. Mi piace farlo. Quindi, resti, quello. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace alzarmi presto al mattino. Mi piace alzarmi presto, quindi alzare, to get up. Quindi, I like, I like getting up. Poi, presto si dice early, early. I like getting up early. Allora, simile al piacere, c'è amare. Amare, in inglese, viene utilizzato per dire, cioè, mi piace molto fare qualcosa, no? Quindi, c'è piacere, I like, or to like. E poi c'è to love, to love, che vuol dire, cioè, amare o piacere, aver tanto piacere a fare qualcosa. Mettiamo adesso amare, ma non è soltanto nel senso romantico, no? Cioè, to love può essere utilizzato per qualsiasi cosa. Cioè, amo leggere, I love reading, ok? Questo è possibilissimo. E abbiamo, altri abbiamo to prefer, preferire, to prefer. E anche odiare, to hate, to hate. Questi richiedono tutti la forma con ing, quindi, come diresti, preferisco viaggiare. Preferisco viaggiare, come diresti questo? Quindi, I prefer, I prefer traveling. Amo, amo, amo viaggiare, quindi, o amo, amo leggere. In questo caso, I like, or I love, I love reading. E poi, odio, odio, odio correre, odio correre. I hate, quindi, I hate running, ok? E richiedono questo ing qua. Un'espressione idiomatica in inglese si usa con il verbo to mind, m-i-n-d, to mind. Quindi, chiediamo, chiediamo, per esempio, do you mind? Do you mind? Vuol dire, ti dispiace? Ti disturba? Quindi, ti disturba se prendo la sedia? Do you mind if I take the chair? Ti disturba? Ti dà fastidio? Do you mind? E anche qua, se voglio seguire con un verbo, devo mettere il verbo all'ing, alla forma ing. Quindi, vi dispiace, vi dispiace aspettare? Vi dispiace aspettare? No, non mi dispiace, no, non mi fa niente. Non mi fa niente. Oppure, proviamo, no, non mi dispiace, farlo. Non mi dispiace, farlo. Allora, vi dispiace aspettare? Do you mind? Quindi, do, do you mind? Waiting, do you mind waiting? Ok, allora abbiamo questa forma ing dopo mind. Quindi, no, no, non mi fa niente. Ok? Quindi, no. No, I don't mind. I don't mind. I don't mind. Non mi fa niente. I don't mind. No, non mi dispiace farlo. Quindi, no. I don't mind doing it. Suggerire, 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 in inglese, si dice to suggest. Suggerire, to suggest. Quindi, cosa, cosa suggerisci? Come diresti quello? Cosa suggerisci? Ok? Cosa suggerisci? Allora, what do you suggest? Ha suggerito, ha suggerito di andare al cinema. Quindi, suggerire richiede la forma con ing dopo, se c'è un verbo. E qua abbiamo il verbo andare, quindi he suggested, he suggested, e poi andare, go, ing, going to, ok, the cinema. He suggested, going to, the cinema. He suggested, going to the cinema.